My heart is a ghost town Ciao a tutti in LegendasBug, qui è Francesco Almasi e oggi voglio giocare con voi a The Higher Lower Games Questo gioco in pratica si basa sulle ricerche fatte in Google mensilmente, quindi è sempre in continuo aggiornamento è disponibile anche per Google Play e App Store, quindi tramite un'applicazione ed è possibile anche giocare direttamente da browser è stato giocato più di 90 milioni di volte e in pratica il gioco inizia con la presenza di un dato e dobbiamo decidere se l'altro dato che ci viene mostrato in controtendenza è ricercato di più o meno rispetto al primo e continua così fino a che non sbagliate e quindi o pareggiate, nel senso che magari ha lo stesso valore del precedente quindi vi va bene e vi fa continuare andiamo subito ad iniziare lo tsunami è stato ricercato 8100 volte rispetto all'ultima volta e i cankles, che penso che siano i piedi così, sono penso più cercati sì, bene poi i cankles rispetto a Praga è più alto Praga perfetto Google rispetto a Praga è ricercato più volte ok il movimento rapido degli occhi rispetto a Google di meno ok il meccanico di più ok Walt Disney, quindi Disney sicuramente molto di più 2.740.000 Homeland, che dovrebbe essere un film rispetto a Disney di più di meno, ne ho sbagliato ricominciamo, quindi abbiamo fatto solo 6 come punteggio massimo sto caricando ok i diritti degli animali rispetto a Angry Birds Angry Birds è più alto sicuramente 4 milioni Angry Birds rispetto a Basta la Polizia la Polizia rispetto a There Will Be Blood, che penso sia un film non lo conosco, quindi penso di meno Metropolis rispetto a There Will Be Blood, penso un po' di più ok Illuminati sicuramente di più i bisessuali di meno e Bay di più ah, è Clockwork Orange, quindi arancia meccanica rispetto a Bay di meno dovete tenere presente anche gli ultimi midwifery di meno ok midwifery rispetto a Whiplash penso di meno e invece di più riproviamo per l'ultima volta sta caricando i dati il diabete 1.200.000 contro Bobby Charlton penso che sia di meno Bobby Charlton esatto Bruce Pristin molto esatto water pollution non penso che interesse a qualcuno lo psicologo rispetto al eh, infatti superiore di poco ma superiore Lady Gaga tantissimo i Pampers di meno sicuramente rispetto ai Pampers Fate Healing non so nemmeno che sia quindi penso molto di meno fatte così il Peru sicuramente di più Neuer di più di meno credibile buon spero che questo breve video vi sia piaciuto vi lascerò il link in descrizione in modo tale che potrete raggiocarlo sia da mobile che anche da smartphone ho trovato questo sito grazie ad un video di Theology quindi vi lascerò anche il suo link del canale in descrizione e ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi